Questo è il momento in cui la 17enne del Bosaggia Federica Rossi ha conquistato il titolo tricolore di tennis ai campionati italiani a squadre di Serie A ospitati dalla città di Lucca. Assieme a Federica Di Sarra ha vinto il match decisivo nella finale che vedeva opposto il suo club il tennis Beinasco al TC Genova. Avevano mancato il primo match point sul 2-1 con le stesse avversarie Brianti e Samsonova che hanno poi superato in 2-7. Il primo ha vinto al tie-break e il secondo con lo score di 6-4 nello spareggio. Lo scudetto di Serie A rappresenta un'importante tappa nella carriera agonistica della giovane tennista valteinese. Ragazza che ha 17 anni può già vantare una serie di successi di spessore. A luglio assieme alla marchigiana Elisabetta Cocciaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel doppio femminile allo European Union Championship, torneo ITFT categoria Grade B1, torneo su terra rossa svolto in Svizzera. Federica veste l'azzurro da quando erano under 12. Nel 2014 vinse sulla terra rossa a Parigi sul campo allestito. A Lomba la Tour Eiffel si impose una categoria promesse. Quest'anno ha superato le qualificazioni a Wimbledon Junior entrando nel tabellone principale. Sempre nel 2018 ha raggiunto la top 100 del ranking mondiale under 18. Un talento naturale scoperto in Valtellina affinato al centro tecnico di Tirregna dove è seguita dal maestro federale valterinese Fausto Scolari.